Nella mia esperienza personale, ad un certo punto, una ventina di anni fa, si è abbattuto un fulmine, che è quello di essere capitato, più o meno per caso, nel Brasile della musica. E lì molte cose per me sono cambiate. Io ho una storia un po' particolare, soprattutto per la mia generazione. Ho fatto studi classici da ragazzo e poi ho costruito invece una carriera nel mondo, chiamiamolo, del jazz. Non percependo mai privatamente uno stress fra queste due cose, però invece il mondo esterno mi ha obbligato per anni a separarle. Quando si fa musica classica si è musicisti classici, quando si suona jazz si è musicisti di jazz. Per me questo non ha mai funzionato. E in Brasile questa frattura si è ricomposta. Perché lì ho trovato un mondo in cui questo iato fra musica colta e musica popolare è risolto. E ho capito un sacco di cose, ho riletto tante cose che facevo già e ho imparato a fare cose nuove, in base alle lezioni in realtà che ho ricevuto laggiù. La prima è che la musica serve. Se la musica non serve, non serve. Dici ma che vuol dire? Cioè noi spesso la percepiamo come una realtà avulsa, fine a se stessa, che cerca se stessa, parla di se stessa. La musica è una forma di socialità. E' l'ululato dei lupi umani. E' attraverso la musica che noi diventiamo comunità. Per me questo è anche la grandezza di questo luogo dove ci troviamo, il teatro. Il teatro è il luogo più civile delle nostre città. E' il luogo dove si consuma questo rito, questo rito laico, in cui si entra da soli in un teatro e si esce cantando le stesse melodie. E quindi entriamo soli in un teatro e usciamo fatti popolo, comunità. Questo ce l'ha insegnato a noi chiaramente già Giuseppe Verdi. In Brasile questo processo è ancora in atto. È ancora un laboratorio a cielo aperto in cui un popolo composto dalla risultanza di tutti i popoli del mondo, perché in Brasile non ci sono due colori uguali anche all'interno della stessa famiglia, tutti i giorni deve trovarsi fatto popolo. E' ancora più difficile per loro. E la musica è lo strumento più affilato, più potente, più preciso per ottenere questo.